Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di A Rose in the Twilight. Che cos'è questo A Rose in the Twilight? Una ragazza, una bambina, si sveglia con la maledizione delle spine sulla schiena in un castello. Privo di colori e di tempo, libera un gigante e assieme questi due personaggi cercheranno di trovare l'uscita. Questa è la storia di A Rose in the Twilight e mi piaceva raccontarvela prima di dirvi che è un adventure puzzle con dei puzzle ambientali in cui dovremmo prendere il controllo alternato di questi due personaggi per portarli a trovare l'uscita. Perché la storia è centrale in A Rose in the Twilight? Le meccaniche sono piuttosto semplici. Alterneremo il controllo tra i due personaggi. I due personaggi hanno delle abilità differenti. Il gigante è grosso, può trasportare gli oggetti, può difendersi dai nemici e è immuni agli attacchi dei nemici. La ragazza invece ha la maledizione delle spine sulla schiena che le permetterà di assorbire del sangue e infondere il sangue che ha assorbito in delle cose o delle creature. Questo le attiverà, le sbloccherà dalla stasi in cui si trovano e dovremo sfruttare questa abilità, queste le abilità di questi due personaggi per arrivare all'uscita. Cosa funziona di questo A Rose in the Twilight? Funziona l'estetica. L'estetica è bellissima. C'è questa estetica dark, tenera, abbinata al sangue e alla violenza alla quale sottoponiamo volontariamente o involontariamente la nostra protagonista. Funziona, lo sanno. Il contrasto tra la stasi del grigio e la vita e la sofferenza che è il sangue è sfruttato molto bene e racconta già una storia di per sé. La storia funziona molto bene. Funziona molto bene il fatto di come viene raccontata la storia. A Rose in the Twilight è un gioco completamente privo di dialoghi praticamente. La storia ci verrà raccontata assorbendo il sangue di persone trucidate all'interno di questo castello che faranno partire un siparietto in nero e rosso come fosse un teatrino delle ombre che verrà usato per raccontarci il background, la storia prima di quando iniziamo a giocare. Questo modo di raccontare la storia è abbinata, come viene raccontata la storia, con l'ambiente, con quello che ci circonda e è estremamente efficace e renderà subito vicini a noi, renderà subito interessanti questi due personaggi che sono un'altra forza del gioco. I personaggi sono molto ben caratterizzati, sono personaggi con i quali empatizzare, le loro animazioni raccontano una storia già di loro, l'incapacità, l'essere indifeso della bambina si concretizzerà immediatamente quando scenderemo un gradino troppo alto, lei si stamperà di faccia con un'animazione tenerissima e che ci racconta quelli che sono i limiti della bambina. Animazioni che funzionano molto bene, nonostante siano estremamente lente, ci chiede di ragionare a Rose in the Twilight, non corre da una parte o dall'altra, facendo delle prove, proprio perché anche il suo gameplay è un gameplay che ci chiede di ragionare. La ragazzina potrà assorbire una sola carica di sangue e rilasciarla, quindi finché non l'avrà lasciata non potrà prendere il sangue da nient'altro, quindi non potrà frizzare nient'altro, il che vuol dire che è un nemico e gestibile perché gli portiamo via il sangue e lui si blocca, due nemici no perché assorbiamo il sangue dal primo, ma il secondo continua a muoverci e muoversi noi non possiamo fare niente. Questo ci richiede un approccio ragionato che ho apprezzato e che funziona molto bene, anche perché i puzzle ai quali ci sottopone Rose in the Twilight sono tutto forche banali, sono ben costruiti, ben congegnati, ci richiederanno un'attenta analisi di quali sono le nostre possibilità, quali sono le nostre caratteristiche, e devo dire che quelli che ho giocato sono stati tutti estremamente piacevoli, tutte le ambientazioni sono state estremamente piacevoli, tutti i puzzle. Funziona il fast travel, il fast travel è disponibile all'inizio, ci potrà trasportare in qualunque punto all'inizio di qualunque stage la nostra scelta per andare a recuperare delle macchie di sangue, dei ricordi che magari non abbiamo recuperato, minimizzando la frustrazione del backtracking. È molto efficace nel backtracking a Rose in the Twilight e questo l'ho apprezzato moltissimo. il grande punto di forza comunque di Rose in the Twilight abbinato a delle altre cose che funzionano tutte benissimo e sicuramente la storia. La storia ci importerà quando inizieremo a scoprire ricordi di questa ragazzina e di chi la circonda, scopriremo una storia molto delicata, molto dark, molto cruda, molto interessante e ci farà veramente provare dell'affetto verso la nostra protagonista. Il limite più grosso è il fatto che stiamo parlando di quella che è una conversione da console portatile e quindi i limiti tecnici ci sono a livello di definizione, a livello di risultato di numero di cose a schermo e comunque ci sono dei limiti tecnici che per il primo momento saranno estremamente apparenti, estremamente visibili che verranno persi poi nel gameplay, nella storia, nell'ambientazione e in tutto il resto. Però non si può negare che comunque i limiti tecnici ci siano. L'altra cosa che mi ha lasciato un po' perplesso e che può non piacere a tutti, a me non dà particolarmente fastidio ma mi renda quanto possono piacere a tutti è che la storia che ci viene raccontata da questi siparietti non è assolutamente esaustiva ma dovremo andare ad abbinarla con una lettura di una guida come fossero gli oggetti di Dark Souls e quindi volendo approfondire la storia dovremo andare a leggere del testo che è assolutamente opzionale che non richiede di essere fruito per continuare nel gioco come in Dark Souls ma che comunque sarà la scelta meno entusiasmante tra quelle possibili per raccontare la storia. E io sono proprio contento che finalmente vengano portati su PC un sacco di giochi giapponesi semi sconosciuti che non avremmo mai saputo che esistono se non fosse perché arriva la sua stima. Il fatto che il Giappone si sia accorto che esiste un mercato PC da poter attaccare, da poter recuperare dei soldi è favoloso e ci porta ad avere delle piccole perle come questo a Rosy the Twilight che devo dire io ho adorato l'ho trovato, non sapevo che esistesse fino a che non mi è arrivato il comunicato stampo non mi è arrivata la chiave eccetera eccetera è stata una sorpresa piacevolissima assolutamente consigliata per quel che mi riguarda e per quel che riguarda i miei gusti costa 20 euro su stima è stato sviluppato da Nipponici e vi ringrazio per aver seguito questo video noi ci vediamo al prossimo ciao ciao